Da dove viene? Non ha un viso conosciuto. Sono svizzera. Rimarra qui qualche giorno? Non l'ho ancora deciso. E che cosa fa? Nella vita. Sto scrivendo un libro. Sono una scrittrice. Ah sì? Sul serio? E che cosa scrive? Storie d'amore. E lei? Io che cosa? Mai stata a Lausanne? Beh, siete voi che venite qui. A causa dell'euro, gli svizzeri vengono qui a comprare la carne perché costa meno. È tanto che lavora qui. Dall'età di 19 anni. Nell'89 il mio capo ha pensato di ritirarsi. Così ho chiesto un prestito e ho rilevato il locale. E' stata molto dura. Sono una che si è fatta da sola. Lei è particolare. Perché dice questo? Di solito sono io che ascolto. Guarda qui. Che stupida. Torno subito. Delphine. Dov'è il mio pennello per le labbra? Non riesco a trovarlo. Tu l'hai visto? Grazie. 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 Grazie.